Finora siamo stati fortunati, un po' per la stagione, un po' perché chi ne ha le competenze ci ha messo sempre nelle migliori condizioni per poter trovare un campo buono, ci penalizza anche il allenarsi su un campo stretto perché 10-12 metri di differenza rispetto allo stadio sono tanti in ampiezza, la lunghezza è quasi uguale ma l'ampiezza per i terzini quando vengono monitorati con i GPS i terzini fanno sempre tanti metri in meno rispetto a quelli che poi dopo vanno a fare soprattutto sui cambi gioco. La preoccupazione diventa da qui in avanti perché venerdì ho dovuto ridurre la seduta di allenamento per le condizioni del terreno perché una volta piovuto sopra era veramente inzuppato, veniva sul fango e diventa problematico per i flessori, diventa problematico per gli adduttori, spesso non ti dà grip, non ti dà la possibilità di spingere nel momento in cui vai a far forza sugli appoggi e alla lunga diventa un grande problema. Mi auguro che nel più breve tempo possibile si possa sbloccare la situazione ma soprattutto che ci diano un campo a disposizione idoneo per far sì che la squadra si possa allenare sempre nelle migliori condizioni.